Prova di carattere da parte della Juve di Massimo Gallegri che nel trentesimo turno di Serie A riesce a conquistare l'ennesima vittoria Siamo imbattuti da 16 turni in campionato praticamente, arriva la vittoria all'Eventus Stadium contro l'ultima della classe Contro la Salernitana che ha sempre più i piedi immersi nella Serie B Amiche e amici appassionati di grande calcio buonasera e benvenuti Sumo di uno speciale ragazzi, video abbastanza insolito perché la Juve credo sia la prima volta nell'anno che gioca all'ora e 15 Video molto flash perché da andare a vedere la Formula 1 che c'è la Ferrari che sta spaccando tutte cose Poi l'opero velocemente di questa partita, era difficile, era complicata sì Perché parliamo pur sempre di una partita che viene dopo la cocente dell'Unione Europea della sconfitta contro il Villarreal Subita mercoledì allo Stadion 3-0 purtroppo, siete tutti, c'è il video, il video a sfogo Appunto lo trovate sul canale Per una di queste partite è stata una partita molto semplice per la Juve, diciamoci la verità Che passa subito in vantaggio con Dybala sull'assist da parte di Vlaovic Dybala che rientra dal primo minuto dopo tanto tanto tempo E rientra dal primo minuto anche Giorgio Chiellini E sarà una presenza importantissima per il proseguo di questo campionato Per questo fine di campionato, per queste ultime 8 partite che ci vedranno anche in due scontri Con due big come Inter e Lazio E una partita anche un po' scorbutica come quella contro la Fiorentina Che mi pare ancora non abbiamo disputato Comunque, dopodiché l'Eventus continua a premere Una salernitana veramente inerme nel primo tempo Arriva il secondo gol da parte di Vlaovic Che svetta sulla difesa campana veramente obbrobriosa Letteralmente ferma su un cross, c'è da dire, calibrato al millimetro da parte del GOT Mattia De Sciglio E mette a segno il suo ennesimo gol in questo campionato fra Juventus e Fiorentina C'è da dire che dopodiché la Juventus continua a premere C'è stata purtroppo una munizione, secondo me, ingiusta per simulazione da parte dell'arbitro Nei confronti di Luca Pellegrini che quindi dovrà saltare la Juventus-Inter E io ho avuto una paura cagna Perché Vlaovic era diffidato E Allegri l'ha tenuto praticamente fino al 90 Facendo l'uscire negli ultimi minuti per Moise Ken Perché era diffidato? Se fosse stato munito avrebbe saltato l'Inter Una cosa che non mi è piaciuta è stato il secondo tempo Perché nel secondo tempo la Juventus ha iniziato a far giocare la Salernitana Salernitana che è scesa in campo con un piglio completamente differente rispetto alla prima frazione di gara C'è stato anche un pericolo per la porta di Scesni Rappresentato da un tiro al volo da parte di Bonazzoli Ottima però la risposta del portiere polacco della Juventus Tre punti importantissimi che portano la Juve a 59 punti 59 punti con il Milan prima a 66 Secondo il Napoli a 63 Terzo l'Inter a 60 Con una partita da recuperare vale a dire quella contro il Bologna Juventus a 59 E vi ricordo ragazzi che al prossimo turno dopo la sosta per i nazionali Mi sembra il 2 aprile ci sarà Juventus-Inter Anzi il 3 o 2 o 3 aprile non ricordo quanto Ci sarà Juventus-Inter Quindi ragazzi mi raccomando Mi raccomando ragazzi perché questo è il momento Qui possiamo non vincere lo Scudetto perché abbiamo tre squadre davanti Quindi davvero molto molto complicato Però ragazzi possiamo davvero fare qualcosa di importante Per una stagione che ormai ha poco da chiedere Ha veramente poco da chiedere Perché l'obiettivo Champions sembra oggettivamente raggiunto Perché comunque la Lazio è a meno 11 se non sbaglio Ed è l'avversaria più vicina alla Juventus Seppur con una partita in meno Ora vediamo dove riusciremo ad arrivare in campionato Secondo me una Cioè il terzo posto è alla nostra portata Primo e secondo non lo so Detto questo ragazzi vi sono dei miei grazi Fate vedere la gara Ciao belli